Entra nel vivo l'estate di Monbaroccio. Lo fa a partire dal prossimo weekend del 24-25 giugno con la tradizionale festa della lavanda e un raduno di Fiat 500 d'epoca che avviano un'estate di eventi presentata in Confcommercio, partner associativo che ha visto il comune amministrato da Emanuele Petrucci entrare lo scorso anno nella rete degli itinerari della bellezza. Una stagione estiva importante perché quest'anno non so se vi è ben noto ma avremo anche l'ottocentesimo anno della realizzazione del santuario del Beato Sante, un evento per noi fondamentale nell'ottica di quello che è un percorso culturale, di fede e di valorizzazione di un territorio che è sempre più bello da amministrare quindi ne sono estremamente lieto. Quest'anno abbiamo integrato dei concerti per ogni fascia d'età, quindi dai più giovani ai meno giovani, abbiamo creato degli eventi con cooperative sociosanitarie per quella che è la valorizzazione molto legata a quella che è la criticità mentale del nostro territorio, la provincia di Pesor Rubino. C'è un'iniziativa che è realizzata insieme con i comuni di Cartoceto, di Colli al Metauro, conterranea, sono eventi legati alla presenza e alla partecipazione di questi comuni nell'areale del DOP di Cartoceto, quindi sono eventi gastronomici dove ovviamente al centro dell'attenzione c'è l'olio di Cartoceto e la partecipazione di ristoratori locali e di chef molto importante. Ci tenevamo perché finalmente riusciamo ad avere un interlocutore che parla singolare per una regione come la nostra che declina al plurale il tutto e perché per la prima volta riusciamo a fare un percorso congiunto con un catalizzatore, quello che è un commercio, che riesce ad aggregare una provincia intera.